Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questa ultima fase per le sfide di Thor vi mostrerò dove usare l'emote con Thor. Quindi mi raccomando, come sempre, dovete scegliere Thor, altrimenti non funziona. Una volta che avete completato la prima sfida, avete completato la seconda sfida che non vi ho mostrato, che è quella di fare dei danni con il martello, dovete fare quest'ultima sfida. Quindi arrivate qui, questo monte qui bianco, questo qua giù, non potete sbagliarvi, ci sono anche le rovine. Arrivate qua e usate una qualsiasi emote con Thor. Cioè, è molto semplice, potete farlo in qualsiasi modalità, quindi vi piazzate qua e selezionate una qualsiasi emote e voilà, il gioco è fatto.